e sfida al miglior piazzamento dietro l'Avezzano l'Aquila nella Tana del Giulianova senza Bedin Loviso e Tempestilli Cerasi perde Persiani in riscaldamento brutta Tegola e poi ne perderà altri due con le immagini di Maria Carannante vediamo cosa è accaduto sul bellissimo rettangolo verde del Fadini contornato dal generosissimo pubblico anche di fazione opposta primo tempo a sicuro appannaggio della formazione di Lorè le occasioni capitate sulla testa del numero 9 rosso blu sono inequivocabili poco dopo il primo quarto d'ora Shiba dopo la battuta d'angolo fa similare la sfera vicinissima al palo destro non ha pretese il tiro al ventunesimo reclama invece vendetta l'occasione alla mezz'ora dove solo il miracolo di Bocca Nera evita la capitolazione intanto il Giulianova perde fermo per infortunio il Giulianova si fa vivo con Di Paolo al trentaquattresimo ma il tiro è fiacco ed inutile due minuti dopo ancora Shiba Di Ruocco pennella la testata dell'attaccante finisce fuori ma fa trattenere il respiro al Fadini a proposito di Di Ruocco due minuti prima della fine del tempo si libera in dribbling e calcio secco è bene di pochissimo sopra il legno traverso in pieno recupero azione di rimessa giallorossa si se preferisce servire buona voglia che soffoca il tiro anziché farlo esplodere secondo tempo più equilibrato ma avaro di occasioni padroni di casa che perdono anche Federico Di Paolo per infortunio è l'Aquila che prova al quattordicesimo con calcio franco di Massetti esecuzione esemplare risposta di Bocca Nera non da meno applausi l'Aquila accusa stanchezza il Giulianova prova ad approfittarne combinazione si se Di Paolo tamponato in angolo è ancora vivo Shiba prima di essere sostituito telefonata a Bocca Nera che risponde all'invito poi più nulla squadre stanche allungate ma non si corrono pericoli davanti alle porte l'Aquila che può mordersi il gomito per le occasionissime del primo tempo Giulianova ancora convalescente macchia all'alibi di aver perso in successione Persiani Fermo e Federico Di Paolo Allora mister infortuni uno dietro l'altro prima Persiani poi due centrocampisti avete tenuto testa a quella che secondo me è la migliore formazione di questo campionato Infatti lo stavo dicendo secondo me non è che l'Avezzano non si merita oppure non ha fatto Non diciamo questo però Assolutamente no però almeno Alfadini la squadra più bella che ho visto è l'Aquila faccio i complimenti a loro perché sia per qualità che per fisicità ma costruita veramente bene Pure per questo vi dico che sono veramente contento di quello che i ragazzi hanno fatto hanno dato veramente tutto non si sono risparmiati ma soprattutto c'è stata questa volontà di vincerla di ripartire, di vincerla ogni volta che c'è la possibilità E di non buttare mai il pallone Questa è una cosa da sottolineare nonostante sentivo ogni tanto i mugugni che sentivo Alfadini Ci stanno Ma certo perché non volevano sicuramente perdere neanche loro però noi la nostra predisposizione è di giocarla a prescindere e cerchiamo di creare delle linee di passaggio in uscito non abbiamo snaturato niente sono contento veramente della loro predisposizione sia in fase in possesso che in fase di possesso cioè sono soddisfatto di questa partita Nel primo tempo è stato palese dominato, approcciato alla grande secondo tempo direi che è stato più equilibrato non credo che il Giulianova ci abbia schiacciato ci sono stati diversi cambi di fronte, ribaltamenti di fronte è stata una bella partita al secondo tempo è chiaro che noi giochiamo ogni tre giorni oramai da un mese e mezzo quindi ogni tanto durante la partita tiriamo il fiato però insomma anche nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione va bene così ripeto per quanto riguarda la squadra io sono molto molto soddisfatto stiamo increscendo e dobbiamo continuare così la prestazione ci lascia un patrimonio importante per quello che è il proseguito del campionato grazie a tutti grazie a tutti